Sono 25 nuovi casi di coronavirus. Nelle ultime 24 ore in Abruzzo di questi 24 fanno riferimento alla sola ASL di Pescara. La provincia di Pescara resta dunque la più colpita del centro-sud Italia. Il totale regionale sale così a quota 3.025. Aumentano di 3 i decessi. Il bilancio tocca la cifra di 335. I nuovi casi accertati con i test eseguiti sia nel laboratorio di riferimento regionale di Pescara che all'Istituto Zoo Profilattico di Teramo, oltre che all'Università di Chieti, sono emersi dall'analisi di 822 tamponi. È risultato dunque positivo il 3% dei campioni. Ieri invece i positivi sono stati solo 4 su un totale di 997 tamponi, lo 0,4%. Del totale dei casi positivi, 242 si riferiscono alla ASL Lanciano-Sulmona-L'Aquila, che resta invariata, 767 alla ASL Lanciano-Vastochieti, che aumenta di 1 unità, 1375 alla ASL di Pescara, che aumenta come detto di 24 unità, e 641 alla ASL di Teramo, anch'essa invariata. Nel numero dei casi positivi sono compresi 335 pazienti deceduti. I nuovi decessi riguardano una 89enne di Cepagatti, un 88enne di Pescara e un 80enne di Montesilvano. In costante aumento i pazienti guariti, che arrivano a 881 più 50 rispetto a ieri. 228 pazienti da asintomatici con manifestazioni cliniche associate al Covid-19 sono diventati asintomatici e 653 hanno risolto i sintomi dell'infezione e sono risultati negativi anche ai due test consecutivi, come da prassi. Del totale dei pazienti, 289 meno 12 sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva e 11 meno 4 in terapia intensiva, mentre gli altri 1.509 sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Dall'inizio dell'emergenza coronavirus sono stati eseguiti complessivamente 42.489 test, di cui 37.263 sono risultati negativi.